Ok signori, un bel ritrovati, sempre erano qui che vi parla, quest'oggi guida su come cominciare e come continuare a fare soldi con GTA che avete avuto gratis tramite il launcher di Epic Games. Perché serve una guida apposta? Perché non solo abbiamo avuto GTA in omaggio, ma c'era il Criminal Enterprise Starter Pack, ok? Che ci dava una serie di business aggiuntivi, di veicoli e quant'altro, per cui la domanda è, ok, non parto propriamente da zero, come mi muovo, come faccio soldi, come sfrutto al meglio tutto quello che ho? Quindi ho detto, va bene, è il momento di fare una guida. Prima di cominciare vi ricordo gamegrind.it che sarà sotto in descrizione, è il sito che ho messo online con tutte le varie guide per capire i business. Se siete nuovi e avete cominciato adesso a giocare grazie a GTA gratuito su Epic Games, andate a vederlo, ci sono tutti i video sul mio canale che parlano delle guide, che parlano dei business e quant'altro. Date un occhio sia al sito che al resto del canale, direi che possiamo cominciare. Allora, diciamo che l'inizio è abbastanza interessante, io ci ho messo circa 5 ore per far l'inizio e avere poi il materiale di cui potervi parlare. Cominciate con il vostro personaggio, ok? Quindi lo fate come volete. Pensavo di farlo nero, poi asiatico, poi sono caduto in un banale bianco, ho detto no, non voglio essere troppo apparescente, voglio farlo triste come il sottoscritto. Fate personaggio, attenzione a quando finite il personaggio perché poi verrà una schermata che vi chiederà se volete saltare o meno il tutorial. No, voi non volete saltare il tutorial per due semplici ragioni, forse tre. Primo, se siete nuovi, fatelo. Secondo, ci sono RP veramente, veramente facili, salite di rango abbastanza velocemente, potete sfruttare le missioni. C, ci darà la possibilità di avere un veicolo gratis, insomma di fare, di avere qualche piccolo vantaggio in più rispetto a chi non fa il tutorial. Quarto motivo, qualcuno ha avuto problemi con i bonus del Twitch Prime perché gli ha detto, devi ancora finire il tutorial, quindi nel dubbio fatelo. È qualche oretta di gioco, ma nel frattempo potete fare tutte le altre cose, quindi cominciate così e andate avanti. Allora, vedrete una cutscene che è arrivata allo Santos con l'aeroporto, chi se ne frega, verrà la Mara a prendervi in macchina e vi porterà ad una gara che farete con lui e potrebbero esserci altri player visto che c'è tanta gente nuova. La fate, è molto semplice da vincere, sono soldi facili, sono RP facili. Quindi, finito questo, vi chiederà di andare da Gerald, quindi dovete andare ad un punto di incontro, rubare la droga, dovete uccidere un tizio, quindi uccidete quel tizio lì, andate da Gerald, piccolo consiglio, non seguitelo a piedi, sparate i tizi davanti, prendete la macchina, fate il giro, lo inseguite nelle vie, lo uccidete, siete a posto e ve la cavate veramente, veramente velocemente. Andate da Gerald, concludete la missione, ok? Da lì, molto probabilmente vi manderà subito al negozio di abbigliamento per comprarvi dei vestiti, mi raccomando, avete dei completi gratuiti, che sono quelli delle gare stante, dell'import-export e dei motociclisti, se non mi sbaglio. Quindi, se voi andate al bancone e non attorno a me ci sono i vestiti, vi chiederà i completi, avete dei completi gratuiti, potete risparmiare soldi con quelli, oppure tenendomi i vestiti della cazzola del personaggio, se invece decidete di cambiare i vestiti con qualcos'altro, mi raccomando, non spendete tutti i vostri soldi, ci mancherebbe. Ok, quindi andate avanti e direi che possiamo, una volta che siamo vestiti, ok, faremo caso a tutte le varie notifiche che ci arriveranno, quindi ci arriveranno un po' di notifiche, tra cui vi verrà già mostrata la L di Lester sulla mappa, che è esattamente a Mirror Park. In questo caso sarà la missione che ci permetterà di sbloccare la sala giochi e di far partire i colpi al casino, ok? La sala giochi verrà poi sbloccata su Mates Bank Foreclosure, una volta comprata potremo fare i colpi, l'importante è che andiamo a sbloccarla subito, così poi non ci perdiamo in chiacchiere e quant'altro. Ci arriverà la mail con scritto tutto quello che abbiamo gratis, quindi un'email da parte di Rockstar, che ci dirà, eh, social club forse va bene, è rilevante, hai questo, 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 in questo caso abbiamo un milione di dollari, Mates Bank ufficio CEO, abbiamo il bunker di Paleto Forest, abbiamo la fabbrica di banconote del Senora Desert, abbiamo la clubhouse di Great Chaparral, abbiamo un appartamento al 1561 di San Vitas e abbiamo un garage da 10 posti al 1337, ok? Che è giù al porto, fondamentalmente. Abbiamo un po' di veicoli, ne abbiamo già parlato, no, dei veicoli no, scusate, abbiamo il Doomfav, il Frogger, la Enus, Obey, Omnis, Coquette Classic, Turismo R, Pegasi Vortex, Antley S, la Zombie Chopper, la Banshee, Poi abbiamo un po' di armi di cui parleremo dopo, tatuaggi e quant'altro, quindi abbiamo tanta roba gratuita che ci verrà listata sotto nella mail. Dunque, tra le altre cose che ci verranno notificate sarà la possibilità di cominciare con Maude, ok? Mi è arrivata dopo 30 minuti di gioco e però fondamentalmente l'ho saltata, ok? Per dedicarmi prima alle altre missioni del tutorial, vai qua al negozio di vestiti, ruba l'auto, fai queste cose qui. Quindi ho aspettato un attimino giusto per togliermi le prime cose dai piedi, anche perché vi chiederà di andare a Cypress Flat per fare, sempre per il tutorial, per cominciare il vostro primo LTS, lo fate. Quindi ogni tanto, mentre cercate di fare le vostre cose per far soldi, vi chiederà di fare queste piccole cose del tutorial, ve le fate. Una cosa che ho cominciato subito è la caccia al tesoro, vi arriverà una mail, quindi vi comparerà una notifica in alto che vi dirà Eh, sei stato invitato alla caccia al tesoro. Aprite, trovate la mail di Van Der Linde e una volta aperta vi comparerà un punto di domanda gigantesco, ok? Dovete semplicemente andare alla prima location, quella dove troverete un fogliettino che vi darà un indizio e da lì in poi dovete andare a cercare altri indizi. Per questa grande location ci sono 20 punti disponibili, ok? E da lì in poi una volta trovato questo dovete cercare altri tre indizi, compareranno sulla mappa tre punti di domanda, sono sempre gli stessi, non preoccupatevi. Il gioco è buggato, vi dirà che ce ne sono cinque da fare, voi ve ne fregate, fate i vostri tre. Fatto questi tre, andremo dove c'è un forziere, ci verrà mandato un forziere e troveremo la revolver d'oro, ok? Dobbiamo fare 50 headshot, 50 headshot per ottenere 250.000 dollari, a differenza della PlayStation non dobbiamo collegare niente perché abbiamo già l'account social club che stiamo usando, perché ci arriveranno immediatamente. Due cose, potete guardare i progressi, start, scusatemi, option, ah no, è vero, siamo su, forse, ask, insomma, pausa, ok? Statistiche, armi sbloccate, andate sulla revolver, quindi andate tutto indietro, avete la vostra revolver d'oro, premete sopra, vi dirà quanti headshot avete fatto. Seconda cosa, i soldi potrebbero non arrivarvi subito, vi spiego perché, ieri ho avuto, ho giocato 4-5 rette per fare tutto questo tutorial e durante tutta questa fase non sono riuscito a salvare una volta i dati in cloud, quindi i server avevano problemi e di conseguenza non mi dava i soldi, non mi dava i soldi, ho detto ma io ho fatto tutto, ho lasciato perdere, mi sono trovato dopo mezz'ora i soldi caricati, appena il gioco capisce che l'ha fatto e che puoi salvare, vi arrivano i soldi e siete tranquilli. Dopo di questo fatto, maude, maude sono 5 ricercati, dovete semplicemente aprire la notifica, vi arriverà tipo una chiamata con delle altre informazioni, vi arriverà una mail con il primo ricercato, con la foto, fate il primo e fate anche gli altri 4, se riuscite a farli subito non avrete probabilmente interrotti da altro. Comunque vi spiego, per chi non lo sapesse, sono 5 ricercati, potete o ucciderli o riportarli vivi da maude, maude si trova più o meno nella zona del Gran Senora Desert. Per portarli vivi dovete semplicemente picchiarli un po', a un certo punto si arrendono, mi compara la notifica in alto e loro saranno tipo così con le mani alzate, li prendete, li portate alla maude, sono 10.000 dollari a personaggio, quindi sono 50.000 dollari oppure 5.000 se li ammazzate. Vedete cosa succede? Che una volta fatto questo vi dirà, eh ho un'altra sorpresa per te, vi manderà anche ad un forziere, troverete un'accetta, fate 25 kill con quell'accetta e avrete altri 250.000 dollari, ok? Quindi cominciate così e siete già a 250, 300.000 dollari, 550.000 dollari, che non è male. In più abbiamo il milione che dobbiamo aspettare, che dovrebbe arrivare entro 7-10 giorni da quando cominciamo a giocare, entro 7-10 giorni, magari ci arriva prima, magari ci arriva entro 10 giorni, ok? Quindi cominciamo a fare queste due cose che sono veramente veramente semplici e poi ci possiamo dedicare volendo ad altre cose che vi cito dopo. Mi raccomando, passate da Moonation, fatto questo, avete un po' di armi gratis, sono veramente tante, avete pistole, lanciarazzi, avete un fucile da tiratore, avete dei piccoli mitra, dei fucili d'assalto, insomma c'è un po' di roba. Quei soldi che avete guadagnato non spendeteli per favore, teneteveli in armi, tanto avete già tutto quello gratis, molto bene. A un certo punto vi diranno di passare dallo Santos Custom, dovrete rubare un'auto, rubate un'auto decente, visto che probabilmente ve la potete tenere, anche se avete altri veicoli gratis con il Criminal Enterprise Starter Pack, però prendetevi un'auto decente, ok? Che non sia un catorcio, lo Santos Custom, avete gratis un po' di roba, la macchina sarà vostra gratuitamente, quindi approfittatene, ok? Dopodiché continuate a fare le vostre cose, qualsiasi sia, io stavo finendo Maude per esempio, ti chiama Simeon, ti dice, eh guarda le modifiche che ti ho fatto fare, sono un regalo, però adesso dovrai lavorare per me, bla bla bla. Da quel momento sarà possibile riscattare tutti i business che avete gratuitamente. Io avevo provato prima per la Clubhouse e il bunker, non me lo faceva fare finché non mi arrivava la chiamata di Simeon. Gli altri business non avevo provato, quindi ho detto, vabbè aspetto sta chiamata e faccio tutto in una volta sola. Quindi, finite Maude, per sicurezza, io ho finito Maude, mi sono fatti i miei altri 250.000 dollari con l'accetta, bla bla bla. Sono andato su internet, ho riscattato l'ufficio Mates Bank, ho riscattato su Mates Bank Foreclosure. Dopodiché, no scusatemi, su Mates Bank Foreclosure ho riscattato il bunker e ho riscattato il Motorcycle Club. Dopodiché sono andato su Dynasty 8 e ho riscattato il mio garage a 10 posti e l'appartamento. Mi raccomando che tutte queste cose gratuite hanno un'icona diversa dal solito, hanno un'icona con tipo il dollaro, se non mi sbaglio, se mi ricordo bene. Lo vedete che è diverso rispetto a ciò che avete attorno. Sarà gratuito e non preoccupatevi. Andate su Dynasty Executive per prendere il vostro ufficio Mates Bank, che è gratuito. Andate al Motorcycle Club per prendere gratuitamente dal PC il, come si chiama, il business delle banconote. Dovrete fare per tutte queste cose qui, avrete delle scenette, che è entrata all'ufficio, fate tutte queste cose una volta sola, così siete a posto. Dopodiché, ok, vi dedicate, io questa cosa non l'ho fatta nel frattempo, però so che va fatta prima, ok, io mi sono dimenticato di farla. Andate a far subito l'allestimento della fabbrica di banconote e l'allestimento del bunker, così che voi continuate a fare tutte le vostre cose del tutorial e quant'altro, nel frattempo comincia già a produrre e guadagnate un bel vantaggio, ok, perché se voi cominciate il prima possibile appena vi chiama Simeon, comprate tutto, ok, e poi cominciate già a fare gli allestimenti, avete delle scorte, potete già produrre qualcosa, ci vorrà il suo tempo non avendo voi le migliorie, quindi le varie altre ore che metterete per assestarvi, fare il tutorial, fare tutte le altre cose, già producete e magari un 300.000 dollarini, 400.000 extra, ve li portate a casa semplicemente giocando, ok, importantissimo. Prendete anche le macchine, dividetevele, le moto mandatele magari al Motorcycle Club, alcune macchine mandatele all'appartamento, altre macchine mandatele al, come si chiama, le potete tranquillamente mandare, aiutatemi, al garage, ok, quindi prendete tutto, io non ho preso il Frogger, ho preso solo macchine e moto, per le altre le riscatterò più avanti, potete riscattarle in qualsiasi momento, non c'è alcun problema e se non mi sbaglio potete riscattarle all'infinito, essendo gratis, quindi siete a posto. Mi raccomando di passare al casino, fatevi lì la schermata iniziale, andate al bancone, prendete l'abbonamento VIP, costa 500 dollari e girate già la ruota della fortuna, così cominciate già, io mi sono fatto 50.000 dollari per esempio, potevate vincere l'auto, oppure la cosa più bella che potete fare in questo momento, visto che avete già macchine gratis, è vincere RP o soldi, quindi o salite di rango velocemente oppure fate soldi alla svelta. Continuate le missioni di Lamar, sono lì per finire il tutorial, continuatele, qualche soldino extra, più nel frattempo vi togliete dalle palle le missioni, così poi non vi chiamano più, non vi danno fastidio, in più giocate, ok? In più fate RP, in più se siete nuovi conoscete il gioco, in più nel frattempo voi non vi rendete conto ma il bunker e le banconote stanno già producendo, se avete fatto come vi ho detto, quindi... E questo è fondamentalmente la base di come si può cominciare, ok? Una cosa che dobbiamo fare da questo punto è poi attendere il milione, ma, 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 dobbiamo già puntare a due cose, import export o sala giochi, sono due business attivi, ok? Se non li conoscete, le guide sono sempre sotto su Game Grind, oppure ce le ho sempre sul canale, import export, vi mettete lì, cominciate a vendere auto, bla bla bla, molti di voi lo conosceranno, quindi o potete fare import export, oppure vi dedicate alla sala giochi, import export si tratta di vendere continuamente macchine, però dovete alternarlo alle missioni, in questo caso alle missioni del CEO, tanto abbiamo già l'ufficio, non è un problema, oppure le missioni della clubhouse, insomma, possiamo già alternarlo, o magari all'attività per due, quando il giovedì arriva un'attività per due o per tre, insomma, sempre anche stare attenti a questi sconti, ovviamente in linea di massima io vi dico di puntare o all'import export o alla sala giochi, perché sono due business attivi, per cui o fate le preparazioni in massa e spammate di colpi con amici o gente nuova che vuole far soldi, oppure import export, ve lo fate per fatti voi, continuate a vendere, 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 sono due alternative assolutamente valide, una volta fatto questo, a meno che non siate strapieni di soldi, ovvero che giocate talmente bene, siete talmente efficienti, non trovate gente che vi dà fastidio, fate colpi in due, li finite, fate vagonate di soldi, non fate le migliorie del bunker e delle banconote false, non comprate altri business, semplicemente continuate a far soldi per comprare nightclub, ok, sperando che magari sia in sconto quando ci arrivate, e terrorbyte, perché questo vi sblocca l'attività clienti, vi sblocca page come hacker molto buono al 9% per la sala giochi, quindi per il colpo, vi dà la possibilità di prendere l'oppressor, quindi voi vi sparate altri due o tre colpi, e potete farci, avete il frogger, quindi usate il frogger per spostarvi velocemente da una parte all'altra con le preparazioni, usate il frogger per fare import export, e avete già un velivolo fondamentalmente, per cui andate per nightclub, terrorbyte, dopodiché andate per l'oppressor, e fondamentalmente siete già a posto per fare money grind, perché continuate a fare una cosa e l'altra, in più avete già il terrorbyte che è un business passivo, quindi vi manca da comprare altri tre business, la lista è sotto completa su gamegrind.it slash nightclub, trovate la lista, la completate con gli altri business, li collegate e siete a posto, perché voi potete continuare a spammare di import export, colpi, in più avete i cinque business del nightclub che vi producono nel nightclub, in più a sto punto se continuate a far soldi, in più vi muovete con l'oppressor, e se continuate a far soldi, se continuate a macinare, prendete tutti i business che avete, che avete semplicemente allestito per il nightclub, fate le migliorie e li fate produrre e comprate le scorte. Punto. Punto. Secondo me, io faccio una stima, se giocate due o tre orette al giorno, arrivate ad avere l'oppressor, se poi non so che sconti abbiamo, eccetera, secondo me, in un mesetto, a botte di due o tre orette al giorno, se giocate bene, 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 in un mesetto dovreste arrivare all'oppressor. Forse qualcuno ci arriverà prima, forse qualcuno ci arriverà dopo, questa è una mia stima, io non so quando ci arriverò, perché mi piacerebbe fare un... come si può dire, mi piacerebbe fare un full immersion su questa cosa qui, dipende. Vorrei provare a fare una serie, vorrei fare una serie con questo pack e portare l'account da zero. Vorrei fare una sfida. Vorrei fare una sfida? Votatela, dite cosa ne pensate. Vorrei fare una sfida da zero a 100 milioni in uno o due mesi come sfida, però non so se portarla full su Twitch in live, non so se portarla solo in live su YouTube, e quindi tutte le mie live di YouTube diventano questo. Non so se farne un vlog settimanale, quindi un vlog... Ok, la mia settimana di questa sfida, di questo personaggio è andata così, sarebbe tipo giornata la money grande, in verità è tipo la challenge dei 100 milioni, non so se fare video tutti i giorni o quasi, non lo so, ragazzi. Se siete arrivati a questo punto del video, vi ringrazio, ditemi cosa ne pensate, magari tipo chiamiamolo hashtag 100m, che sarebbe per 100 milioni, e mi dite la vostra opinione su questa serie, se A la volete vedere, e B voi come la strutturereste, che possa piacervi. Quindi, eh, Reno, se la fai così, io la guardo sicuramente, se la fai così, magari un po' meno, perché è un po' dispersiva, commentate e fatemi sapere. Io direi che vi ho dato le linee guida per cominciare. Ah, giusto, altre cose, che mi stavo dimenticando. Altri modi per far soldi, potete fare la raccolta delle carte collezionabili, la raccolta dell'action figure, quindi ci sono tutte le varie raccolte che vi dà il casino, aggiuntive, che pagano vagonate di soldi, ok? Quindi vi mettete lì qualche oretta, i disturbatori. Una volta che avete l'oppressor, o magari vi prendete un buzzard, che costa neanche tantissimo, potete andare e farvi disturbatori. Quindi ci sono tantissime altre, ehm, caccia al tesoro, tra virgolette, e raccolte di collezionabili, che vi pagano veramente, veramente tanto, veramente bene, e che vi possono aiutare a scalare alla svelta. Quindi, nei momenti in cui non avete niente da fare, eh, da quando avete comprato, da quando vi arrivano i soldi del milione, e cominciate a fare import-export o sala giochi, avrete dei momenti vuoti in cui non volete farlo, ci buttate lì i collezionabili, che pagano bene, soprattutto vi danno tanti RP e sedite velocemente di rango. Quindi una volta che finite quelli, poi vi buttate veramente a cannoni sui business, ma avete vagonate di soldi disponibili. In più ci sono gli sconti settimanali, se state attenti, dei business a casa ve li portate a metà prezzo, in più i soldi per due, le attività da fare e quant'altro. Non posso essere più preciso di così, perché ci sono un po' di variabili. Quanto giocate voi, i player che vi danno fastidio, se giocate sempre nell'MTU, quanto siete veloci a fare la roba, che sconti ci sono settimanali, che attività soldi doppi ci sono. Quindi su alcune cose, vi posso dire come fare tutto l'inizio, vi posso dire, eh, gli step da fare iniziali, e poi a cosa puntare. Da lì in poi è tutto vostro. Però sappiate che avete questa idea, ok, dovete puntare a questo, dovete puntare a questo, o avete due scelte e lì spetta a voi. Se però seguite questo, io vi posso garantire che molti di voi, in un mesetto, faranno, almeno avranno un impero di business già creato, e voleranno sull'oppressor. Se poi voi spennete e incazzate, lì non ci posso fare niente io, molti di voi però potrebbero essere in grado di mettersi da parte in un po' di milioni. Quindi raga, se ne chiederemo per questa super guida, ci ho messo quasi 20 minuti, è veramente tutto. Io vi ringrazio per essere rimasti con me, noi ci vediamo, oggi è lunedì, sì, ci vediamo, se mi state guardando adesso, che è lunedì 18 maggio, ci vediamo stasera in live alle 19.30. Io vi ringrazio, e alla prossima, 3, 2, 1, aloha!